Rosaria Succurro, sindaca di San Giovanni in Fiore, ha provveduto a querelare un gruppo di persone che hanno colpito a pugni la sua auto in piazza del municipio, dopo averla accerchiata nel tentativo di intimorirla con prepotenza, insultandosi a lei che l'intera giunta. Grazie al pronto intervento di due carabinieri non è successo il peggio. Gli autori del fatto si erano qualificati come ex percettori del reddito di cittadinanza, dice la sindaca. Nei giorni scorsi avevo ricevuto una delegazione di ex beneficiari della misura, cui avevo chiesto di darmi il loro curricula da portare al centro per l'impiego di Cosenza, vista la notevole richiesta di lavoro che c'è in questo periodo. Non ci arrenderemo mai, sottolinea la sindaca Succurro, ai ricatti e alle intimidazioni. Se lo facessimo, legittimeremmo una cultura della prevaricazione che negli anni ha procurato tanto male alla Calabria e ai calabresi, determinando ingiustizie e squilibri impressionanti. I protagonisti dell'atto di ieri sera credono di poter violare le regole civili a piacimento, di piegare con la forza le istituzioni pubbliche alla loro volontà. Fino a quando sarò sindaco, la violenza non entrerà mai in municipio.